Ospite del comitato andriese della società Dante Alighieri, Amedeo Feniello, storico del Medioevo che ha presentato il romanzo Napoli 1343, le origini medievali di un sistema criminale. Una società dominata da famiglie e uno Stato che deve continuamente intermediare con loro, speculazioni bancarie che portano ad una delle più cruente crisi economiche. I legami tra banche fiorentine e Regno ormai preda ai giochi internazionali. Il tutto racchiuso in fatti di sangue accadute a Napoli appunto nel novembre del 1343. La descrizione di un mondo così lontano eppure così simile al nostro. Napoli 1343, le origini medievali di un sistema criminale. Qual è la trama di quest'opera? Allora non è un romanzo, è un libro di storia, quindi fondato su una ricerca pluridecennale che arriva a una conclusione che è quella della scoperta per così dire di una mentalità presente all'interno della società napoletana che in qualche misura è l'humus sul quale poi successivamente nel 500, 600, 700 si forma quella che volgarmente in maniera per generalizzare viene chiamata camorra o criminalità organizzata. Nel Medioevo si cominciano a creare dei germi, si cominciano a creare delle strutture che sono identificative di questa società. Sarebbe a dire elementi di controllo del territorio attraverso l'azione dei clan familiari, senso di appartenenza, gestione di ogni conflitto attraverso l'utilizzo della violenza e che sono tutti quanti aspetti che poi decantano in quello che successivamente si chiamerà appunto camorra. Che cosa vuole lasciare alla società contemporanea quest'opera? Ci sono state tante opere importantissime di grande rilievo, quelle di Sales, Barbagallo, Saviano eccetera eccetera ma io non voglio parlare con questo libro, voglio portare un contributo che non è di tipo sociologico, economico, giornalistico ma un'analisi di tipo storica e cercare di far capire una cosa che per comprendere un fenomeno di questo tipo è necessario anche investigare in profondità in quelle che sono le strutture napoletane. Si potrà dire che questo è un discorso negativo perché c'è una sorta di darwinismo, c'è un ideale dei napoletani che sono sempre stati cattivi, guappi e camorristi. Non è questo che vuole spiegare il mio libro. Il mio libro vuole testimoniare una realtà e attraverso lo studio di questa realtà, attraverso la comprensione di questa realtà si può fare un salto che può permettere anche di creare degli anticorpi diversi perché bisogna capire che per agire all'interno di un sistema così ancorato, così strutturalmente radicato non basta soltanto l'uso della forza della polizia e in un mese tutto quanto viene risolto perché tutto rinasce, c'è bisogno di un lavoro lungo, molto più profondo e che soprattutto sia di tipo culturale.